buongiorno a tutti oggi vi vogliamo presentare un nuovissimo modello di spazzole per aspirapolvere una spazzola molto particolare e indispensabile per chi è a contatto con animali domestici come cani gatti ed ogni animale con muta infatti grazie alle sue caratteristiche questa spazzola può essere usata su qualsiasi tipo di pelo ecco il nuovo modello ne pg 18 una spazzola molto compatta che può essere collegata a qualsiasi modello di aspirapolvere sia a traino che a batteria o centralizzato un tubo flessibile universale di circa 1,5 metri adattabile alla maggior parte delle impugnature degli aspirapolveri che permetterà di avere una maggiore flessibilità di utilizzo ed un manicotto universale flessibile adattabile a tutti i diametri e sezioni della nuova generazione di scopette a batteria presenti sul mercato andiamo a vedere di cosa si tratta la confezione contiene un secchetto pet care studiato per contenere tutto il kit una spazzola modello ne pg 18 pet grooming tre pettini cioè uno per il pelo lungo uno per il pelo corto e uno in tpe per il pelo raso come il gatto procediamo alla pettinatura dell'animale premendo il pulsante quando il pettine è pieno di peli a questo punto il pelo viene aspirato nel tubo senza lasciare tracce nell'ambiente circostante